Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi ti vado a presentare uno script che ci consentirà di creare delle backdoors. Questo funziona su Windows e su Linux. Lo script è molto semplice, non è molto complesso e in più, come puoi vedere, qui ci sono tutte le informazioni e le configurazioni, le opzioni che puoi fare, eccetera, eccetera. Quindi, detto questo, io passerei subito all'azione. In più, questo script ci consente di creare sessioni multiple e di fare il join tra una sessione e un'altra, direttamente dall'host che ospita appunto la sessione. Quindi andiamo a vedere come si fa. Allora, prendiamo la mia macchina Kali. In più ho bisogno dello script che io vado a muovere qui e lo andiamo a installare, molto semplicemente. Allora, per far git clone, poi copio l'indirizzo, cioè copio, lo incollo e premo invio. Aspetta un attimo, poi cd, entro nella directory. Qui abbiamo, come si vede qui, requirements, quindi dobbiamo scrivere pip install-r requirements. E premo invio. Ok, per quanto riguarda il mio Kali, la richiesta è già soddisfatta, quindi non installa niente. Molto probabilmente quando proverai con il tuo, installerà i vari software, le varie dipendenze. Quindi scrivo Python e premo invio. Ecco, a questo punto siamo dentro la sessione. Fammi vedere. Un attimo. Control più. Se ingrandisco qui per te. E qui, se io scrivo help, vedo che ho delle, appunto, opzioni. Quindi, la prima che dobbiamo creare è generate. 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 E premo invio. Eh, no, scusatemi. Ti devo far vedere una cosa. Help generate. Ecco. Qui possiamo, per esempio, creare la backdoor per Windows. Quindi io copio questo e lo incollo qui. Poi, localhost. Qui possiamo mettere o la porta, in questo caso metto la porta della mia VM, ma possiamo decidere anche un IP. E premo invio. Ok. Questo è il nostro payload. Ora, qui va copiato, qui, from here, va copiato tutto, e ti faccio vedere una cosa. Copy. Ora, io vado ad aprire, qui, dal mio computer reale, quindi dall'host, una shell di PowerShell. Ed eccola qui. Se io copio, se io incollo quello, quel payload, molto probabilmente l'antivirus farà complain. Guardiamo un attimo. Ok. Vado a copiare il payload e premo invio. Aspettiamo un attimo. E l'antivirus, molto probabilmente, appena si accorge che ho fatto partire questo. Ed eccolo qua. Ti dice che nel PowerShell è stato bloccato, perché, eccetera, eccetera, details. Guardiamo un po'. Il behavior è shield. Ok. Bloccato. Perfetto. Ma noi vogliamo che funzioni, no? E qui arriva la figata. Qui io ci scrivo, offuscamento. Adesso, lo script, come vedi, il payload è cambiato, no? Io vado a copiare tutto ancora. Copia. Incollo. E lo faccio ripartire. E a questo punto, come vedi, dice sessione stabilita. Qui, se io adesso scrivo sessions, questo è l'IP della mia macchina, della VM, che è collegato all'Operation System Windows, con user. In questo caso sono io, XXX. E questo è il session ID. Quindi, copio questo e scrivo shell e incollo l'ID della sessione. E voilà. Eccomi dentro. Se io scrivo dir, questi sono i file del mio, in questo caso, della mia directory XXX. Quindi del username XXX. Ed eccoli qua. Tutti qua. Ora, ti ricordo, per esempio, se io volessi copiare questi file dal computer remoto, quindi dalla mia macchina a la mia macchina Linux, qui siamo dentro PowerShell, quindi comando tipo FTP non funziona, perché dobbiamo usare comandi in FTP. Ma adesso proviamo a farlo per Linux. Quindi io vado qui, invece che Windows, scrivo Linux. Ed eccolo qua. Quindi io copio come ho fatto prima, tutto, copia. Apro la mia macchina di Ubuntu. Admin 1, 2, 3. Vado ad aprire la console. Oh, terminale. Faccio paste. Vediamo che succede. Ok, questo dice che non c'è. Ora questa installazione di Windows è piuttosto pulita. Eh, scusatemi di Linux. Cioè, praticamente manca un sacco di dipendenze. Va bene. Allora, ce la mettiamo. Che dice che manca? APT. Enstone Carl. Tanto ci vuole un attimo. E riproviamo. Paste. Ok. Ok. Eccola qua. Sessione stabilita con, stavolta, la macchina di Linux. Quindi se io faccio sessions. Se io scrivo qui sessions. Ed eccole qua. Ne ho due. Una Windows e una Linux. Ovviamente queste sessioni possono essere temporanee o permanenti. Questo dipende sempre dall'obiettivo. Se io scrivo anche in questo caso shell. Shell. Paste. Ed eccomi dentro la macchina di Linux. Per esempio cd desktop. E qui ho il mio. Desk. Fammi un po' vedere se c'entra. E comunque. Questo è le cartelle che sono dell'utente. In questo caso. Crisinet. Ora. Ci metto un po'. Perché quando. Non è proprio così reactive. Tanto che. Sul. La pagina di GitHub. Se leggi. È ancora in fase di test. Questo. Questo script in Python. Comunque. Spero che ti sia. Stato utile. Che ti abbia dato un'idea. Su. Cosa ci puoi fare. A cosa serve. E. Come funzionano le backdoor. Ovviamente. Se tu. Volessi. Fammi uscire. Exit. Yes. Ora termina le sessioni attive. Perfetto. Perfetto. Se io gli scrivo questo. Così. Lui. Come vedi. Ti dice che. Quindi. Abilita tutto il network. E tutti gli indirizzi IP. Sia come ricezione. Che come invio. Però. Se tu vuoi specificare. Invece. Vuoi essere più preciso. Qui puoi specificare. La porta. Cioè le porte. Quella di. Invio. Quella d'ascolto. Il netcat. E. Poi. Eventualmente. Il certificato. Il key file. Qui c'è l'update. E puoi specificare. Anche l'ip. Che è sotto netcat. Sotto l'opzione n. Puoi specificare. L'indirizzi IP. Quindi. Si può usare. Anche per. Ovviamente. Remoto. Ok. Io credo. Che per il momento. È tutto. Ti abbia dato. Un'idea. Se vuoi provare. Sul tuo computer. Ovviamente. Devi provare. Sulle tue macchine virtuali. Perché. Altrimenti. Potrebbe essere. Un reato. E. Ovviamente. Non vogliamo. Questo. Perché questo video. È solo a scopo. Di. Educazione. Insomma. Educativo. Detto questo. Ti saluto. E ti ringrazio. D'aver guardato questo video. Se ti è piaciuto. Lascia un like. Se non sei iscritto al canale. Iscriviti al canale. Iscriviti al canale.